Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video di The Sims 3. Io sono Alessandra di The Sims e se ancora non mi conoscete ormai sapete dove trovare tutti i miei riferimenti ovvero nell'info box. Seguitemi, seguitemi, seguitemi. Detto ciò, finita questa intro a Lavanna Marchi, vi faccio notare che abbiamo una new entry ed è qui ragazzi. Tra l'altro una signora a dir poco elegante, fatemela vedere un attimino bene. Eccola qui, si chiama Brianna Podolini e la vedete vestita in maniera un po' strana, tutta nera con i guanti? Sì ragazzi è il nostro nuovo maggiordomo. Ho deciso di investire nel maggiordomo perché così fa anche i servizi oltre che le pulizie e possiamo anche chiedere di fare cose spot. Quindi per esempio se io adesso volessi potrei chiederle di cucinare, chiedere un consiglio, chiedere un massaggio. Quindi secondo me è utile da tenere diciamo in giro. Soprattutto voglio tenerla d'occhio per capire che cosa farà in casa perché appunto alcune cose gliele devo dire, altre le farà di sua spontanea volontà. Quindi questa è la prima notizia che vi devo dare. La seconda è innanzitutto, ho il compleanno di Mal e tra pochi giorni sarà il compleanno di Josie, aiuto. La prima è che c'è questa Charmaine, non so cosa, che io odio perché è una, come si chiama, paparazza e nessuno l'ha autorizzata a stare in casa mia ma addirittura si fa il bagno nella mia piscina. Io buono lo so ragazzi. Ma la novità fantastica è che mi ho deciso di prendere due giorni per il passaggio d'età di Mal e quindi adesso devo capire perché. Che cavolo è? Perché mi sia uscita quella notifica? Oh mio Dio ragazzi ma sono delle ossa? Santa pace. E praticamente ho modificato, come mi avevate detto, frammenti di il nostro amico Fred. Oh mio Dio vado a mettere qua. Cioè è morto Fred? Comunque dicevo non so per quale motivo Mal adesso mi dice che deve passare l'età, probabilmente è un bug, perché ho impostato l'età per i bambini di due giorni più lunga e quindi adesso come potete notare da qui non passa l'età oggi ma tra due giorni. Quindi è aumentato un pochettino. Spero che funzioni perché ragazzi devo investire tutto a me stessa e tutto lui stesso nella abilità di logica. Ma vi starete chiedendo cosa diamine è successora dei pannanz? Ebbene sì ragazzi. Vi presento ufficialmente la nuova casa della nostra Nina. Perché ovviamente la pannanz che aveva prima era giusto così un attimo temporeggiava per prima di comunicare a tutti che appunto era diventata una donna e invece adesso lo possiamo urlare ai quattro venti ragazzi. Siamo cresciuti e necessitiamo di una pannanz da soli e quindi Nina adesso viverà qui. È vero che c'è Mal sempre a casa sua e va bene. Inquietantissima tra l'altro stracci ma io esigo di vederla cresciuta. Perché ogni volta dico cresciuta invece volevo intendere umana? Comunque scusatemi io avevo messo questa fantasia perché mi sembrava carina per il divano. Non mi ero accorta che era una fantasia natalizia. Da lontano mi sembrava così carina. Adesso vedo le corna dell'alce e non so se in estate ci può convenire come cosa. Comunque ve la faccio vedere subito la casa perché ragazzi necessita un home tour. Allora ragazze a sinistra dell'ingresso diciamo perché si sale da qui dalla scala e vi faccio vedere un attimino il bagno. Ho deciso di metterlo qui più che altro perché mi conviene maggiormente avere la camera in un posto un pochettino più isolato rispetto al bagno e non proprio appena arrivo con le scale entro nella camera da letto. Quindi ho deciso di mettere il bagno qui. Guardate che carino! In realtà è quasi uguale a come era prima. Ho messo qualche decorazione un po' più matura tipo io adoro questa con la conchiglia. E sì ok sono rimaste ancora delle collanine. Ha pur sempre fatto il compleanno due giorni fa. Dai ragazzi! E ho aggiunto questa vasca perché adesso immagino che si vorrà un pochettino anche dedicare al suo benessere psicofisico. Qui c'era già un mobilettino quindi possiamo... Ah no! Sì questo ve l'avevo già fatto vedere. E ok! Questo era il meno utile da farvi vedere. Allora adesso vediamo l'open space perché appunto c'è una cuscina sulla sinistra. Ho messo anche la macchinetta del caffè. Vi volevo far vedere i dettagli perché è vero che lei ha una dependanza eccetera eccetera però comunque lo stile rimane quello un pochettino campagnolo e di Appaloosa Plains. Quindi volutamente ho messo questo lavandino con questi fiorellini. Anche qui c'è un po' di stile campagnolo però mi piace un sacco che c'è la finestra che affaccia sul giardino. E poi abbiamo il frigorifero. Di qua c'è la tavola da pranzo con una piantina appesa lì. Guardate che carina. E a lei piace tantissimo sedersi qui e guardare la tv perché... A destra aspettate che ora vi faccio vedere un attimino. Adesso ho messo questo cosino diciamo per le decorazioni, cornicette eccetera qui c'era la... Era qua mi pare? Sì mi pare che era qui. Comunque c'era la scrivania o forse la scrivania era già lì. Sì era già lì ma qua non c'era proprio niente. Ho deciso di riempire questo spazio con un tavolo basso che affaccia sempre sugli esterni. Guardate che bello. Cioè ragazzi io adoro tantissimo questi scenari. No vabbè relax che mi può mettere... Mettete pollice in su se vi ispira. La stessa cosa. E anche un piccolo stereo così può accendere la musica quando vuole. Qui c'è una libreria carinissima. E appunto come vi stavo dicendo la scrivania è qua dall'altra parte e ho deciso di lasciarla lì perché qui c'è un muro a mezza altezza che delimita sostanzialmente la cucina dal salottino. E nel salottino ho deciso quindi di lasciare la scrivania con il computer sulla destra perché mi serviva che dietro al muro a mezza altezza venisse il divano. Quindi vedete quanto sta bene? Secondo me sta benissimo. Poi ho deciso di mettere... scusatemi mi sto facendo venire mal di macchina dalla sora. Nina io ti amo sei stupenda. Comunque ho deciso di mettere anche questi quadretti con foglie e cose varie adorabili. Ho stracci, televisore e appunto Nina si siede qui a sentire il TG, le notizie e il meteo eccetera anche la mattina mentre fa colazione su quel tavolo. Qui non cambia molto rispetto a diciamo quello che vi avevo fatto vedere. Cioè in fondo non c'è sostanzialmente più niente ma soltanto questa menzolina e qui ho creato un angolo visto che era un angolo obbligato che avevo dovuto fare per delimitare tarantelle. È venuto questo angolino e ho deciso di metterci una pianta illuminata. Mi piace un sacco. Adesso vediamo la camera da letto che ovviamente non è più la camera da letto di una piccola bebè e anche se ha ancora dei ricordi della sua gioventù. Guardate ragazzi ma ve la ricordate? È cambiato tutto sostanzialmente. Questa cartata parati tra l'altro è anche la carta che è in casa nella casa principale appena di sotto. Mi piace un sacco e soprattutto volevo qualcosa che con il legno se sebbene il verde mi piace tantissimo piace tanto anche a Nina. qui ho messo una sveglia sul comodino, un'altra piantina adorabile, il letto è girato dall'altra parte. Ho speso un sacco di soldi per rifarle questa dipendenza ragazzi. Qui c'è uno specchio e nada. Poi magari qui possiamo appendere foto, cose eccetera eccetera. Ho deciso di spendere un po' di soldi. Infatti avevamo tipo 30.000 simone, poco meno e adesso ne abbiamo 11.000. Perché diciamo che l'alternativa sarebbe stato prenderle una casa e visto che adesso appunto voglio che lei continui a vivere con loro fin quando non trova un compagno eccetera, per il momento rimane a casa con noi e quindi meno costoso che acquistare una casa. Quindi brava Nina, brava. Lei tra l'altro vuole avere un ottimo appuntamento con Gesù e ragazzi, ma io non escludo che l'appuntamento ce l'avrà con qualcun altro. E oggi cerchiamo di lavorare in tal senso. Oggi ci dedichiamo un attimino ragazzi ai miei figli, ovvero a Mal che deve arrivarmi almeno a... no ragazzi, tra oggi e domani mi deve arrivare a 8. Cioè capite? È veramente difficile come situazione qui. Ok, questo è il livello 5, perfetto. Vediamo se posso ancora leggerlo. Il 2. Secondo me sì. E quindi potrà migliorare un altro po'. Ed è a livello 5, perfetto. Può fare da tutor ai bambini per aiutarne a migliorarne il rendimento scolastico. Cioè lui potrebbe fare da tutor ai suoi coetanei, ma sono talmente fiera di idee. Nel frattempo che lui... scusatemi... ragazzi un attimo solo c'è qualcosa che non va. Allora, c'è Nina, scusami pulisci qui, c'è Nina che dice di volersi cosa? Presentare in modo amichevole a stracci. Cioè me la stai dando già per scontato che sia umana. Perché altrimenti come faresti a vederla, Nina? Nina, come fai a vederla? Oh santa pace. Comunque in tutto ciò io per scoprire appunto la pozione quella lì morfio, eccetera, ho bisogno del livello 8 di logica, ragazzi. Però ciò non toglie che magari... ah, questo è logica 3, ok? Ciò non toglie che magari anche a livello 5 se vado a scoprire una pozione mi fa migliorare la mia abilità. Non credete? Boh, non lo so. Allora, vediamo qui. Riempi la ciotola, poi vuole usare, ma io invece vorrei approfittarne per chiamare l'animale e cuoccolarla un pochettino. Perché ragazzi, off camera mi prendo sempre un po' di tempo per cuoccolarli, dargli bacini, eccetera. Perché sono terrorizzata dal... faga le bollette. Sono terrorizzata dal fatto che me li portino via. Io non posso assolutamente accettare questa cosa. Tra l'altro mi era morto anche... prendi la posta, vediamo cosa c'è. Mi era morto anche un serpenti un'altra volta. Mi sa che devi andare, mi sa che devi andare alla scuola. Va bene così, va bene così. Poi quando torni ti faccio fare quello e quello, anche perché lui ha 8 al momento di voto e vorrei farlo arrivare a 10. Voglio essere fiera anche di che hai capito male. Ok, nel frattempo vediamo... ah ok, lei è distrutta ragazzi, altro che... Allora, una lettera per Olivie da Christy Holland. Scusami, Nina, fai una cosa, viene a dormire. Ah, è sotto caffina, rilassati nel frattempo si toglie. Ho sognato che tu e io ci saremmo visti, ma lei è colore della notte. Vuoi realizzare i miei sogni? Col cacchio. Ti dico solo questo col cacchio. Volevo un attimo però, a proposito di sogni, andare a mettere appesi i premi che la nostra Nina aveva avuto. Quindi abbiamo questo e poi... oh, che carino! Questo che sarebbe, aspettate, il premio trofeo di partecipazione a uno spettacolo d'arte. Ah, così random. E il diploma del liceo. Guardate che bello! Già tutte cose appese, eh? Vabbè, ricordi, devo dire la verità, però scusatemi, rendiamoci conto che lei ha due coccarde con il numero 1. Io, giusto così per dire, chi ha mai avuto un wall of fame di questa portata. Perché io no, giusto così per dire. Cioè, Nina, ti voglio bene. Ehm... Ah, ok. Allora, la squadra locale ha tronfato, ha imparato molto dall'esperienza. Ragazzi, ma io ce l'ho andata a vedere la partita gratis. Ho barato. Sì, forse... forse sì. Allora, incontra nove amici tu. Perfetto. Nel frattempo, scusatemi, ma Olivier con messa a messo con il suo lavoro. Perché... Ah, ragazzi, lui è a livello 8! Ci rendiamo conto che è a livello 8 e lui dovrebbe raggiungere il livello 10 della carriera culinaria? Il che vuol dire che praticamente siamo lì. Allora, vai a ripulire. Ehm... Però vi dicevo che oggi mi vorrei dedicare ai miei figli. Quindi, se da un lato Mal oggi deve migliorare la sua abilità di logica. Dall'altro, Nina, quando deciderà di addormentarsi, e io veramente non ho parole, dovrà investire il suo tempo nella conoscenza di un'altra persona, che non sia Josué. Perché Josué, devo dire la verità, mi è un po' scocciata. A proposito, ragazzi, di niente. Vi faccio vedere che ho trovato l'urna dove c'erano gli animali, ho trovato l'urna di vecchietta e quindi ho deciso che questo sarà il cimitero degli animali. Nel frattempo volevo mettere anche i semi che abbiamo. Vorrei piantarli, perché avevo visto che anche lei ne aveva diversi. E quindi andiamoli a mettere. Tra l'altro, forse sarebbe anche il caso di creare proprio un orticello. Però per il momento non l'ho pianificato. Vorrei farlo un tipo da questa parte, una cosa del genere. Ci può stare, secondo me. Allora, semi sconosciuti, eccetera, eccetera. Ma i frammenti del mostro... I frammenti... Boh, non lo so. E lui ha anche semi in borsa? No, non ha nulla. Ah, forse ha la cipolla. Potremmo anche piantare la cipolla, in effetti. O no? Pianta... Ah, livello 5 per piantare la cipolla. Qualcuno di voi ha il livello 5? No, nessuno. Perfetto, perfetto. Ehm... Ok, allora Nina sta dormendo. Tra l'altro si è messa a dormire qui, così, randomicamente. Io non li voglio questi punti di celebrità, non so come dirvelo, ok? Non so come dirvelo. Allora, faccio riposare un po' lei e... Volevo far socializzare Nona con... Con me, ma... Prenditi cura di te. Non so perché non l'abbiano fatto. Comunque vogliono dormire un po' tutti, ragazzi. Sono stanchi. Va bene, li faccio riprendere. Ragazzi, ma non ci credo! Bolt ha mangiato uno dei semi che avevo messo qui! E mi dice che ha mangiato un frutto della vita! Bolt! No! Bolt ha mangiato un frutto della vita che gli ha allungato la vita, ma... Bolt, porca la miseria! Io li dovevo piantare, questi semi! Allora, per piacere qualcuno venga qui, ma si è mangiato pure la cipolla! Porca ciaccia la miseria! Io dovrei avere il livello 5 di giardinaggio, ma non ho niente, niente, ragazzi, niente! Quindi lei non può... Lui non può piantare il seme... Ma porca la miseria! Allora, rimettiamolo immediatamente dentro la borsa qui. Io spero di avercelo ancora un... Un seme... Allora, il seme sconosciuto, quello che ha mangiato lui, secondo me, era il seme speciale. Lo sapevo, il seme speciale non conosciuto. Bolt, ridammi indietro quei giorni di vita! Evviva, ragazzi! Sì, è partita la musichetta perché Olivia ha imparato tutte le ricette per completare la sfida di abilità cultore dei menù. Che bello! Perché l'ho messo ad imparare alcune ricette che avevamo nell'inventario. Io non riesco a capire, ve lo giuro, per quale motivo Nina continua a gattonare in quel modo, a muoversi in quel modo, vabbè. Allora, Stracci è qua, ragazzi, ma volevo vedere, ma io tipo potrei presentarmi... Vedete, lei non può presentarsi a Stracci se non sa che Stracci è viva. Vuole dare un caldo benvenuto a qualcuno. Ragazzi, questa è veramente strana come cosa, ve lo dico. Allora, sta tornando mal, per fortuna. Io vi direi che adesso vado a continuare a leggere Logica. Perfetto. E spero che il maggiordomo qui mi serva, devo dire la verità. Perché tipo qui non ho visto che mi ha pulito la situazione. Il maggiordomo, in teoria, dovrebbe anche dirmi. Giusto? Spero di sì. Tra l'altro, ce l'hanno ancora le pulce, avevo messo che dovevano andarle a lavare. Ma non mi rompete le scatole, mamma mia, ragazzi, quanto è difficile di sotterrare qualcosa. Scava una buca, va benissimo, provateci, provateci. E mettiamo invece mal... Ah, non è tornato a casa. Si è fermato così, in mezzo al nulla. Ma... E beh, va bene così. Allora, un attimo solo, fatemi vedere qui cosa c'è. Allora, mamma Josie, che se tutto va bene, sta anche lei per completare la missione. Volevo un attimo farla venire qui a prendere questo robo. Che non so cosa sia, sinceramente. Poi tra l'altro, lei va sempre in giro nuda, perché io la faccio uscire col teletrasporto e quindi giustamente mini meteorite è l'inutilità, mi direte. a questo punto. Scusatemi, allora, fatemi un attimo fare mente locale, se mi serve qualcosa nel... Ok, in questo. Semi, insetti. Io vorrei riselezionare gli insetti e vorrei capire, ma i... le farfalle valgono come insetto? Perché io a questo punto non so più niente, vi giuro. eccola, eccola, l'ho nominata. Sì, vale come insetto. Finalmente, finalmente. Perché ogni volta che abbiamo attivato questa cosa, puntualmente... Prendi anche un ferrellino, grazie. anche il parfait di frutta ha fatto... L'ha presa? Non l'ha presa! No, Gio, sì! Raga, mi dedico anche a questo nel frattempo che Mal sta imparando altre cose della logica e lei sta un attimino mangiando, brava, perché tra poco hai una missione da compiere. Eccoci qua, ragazzi, non sembra che abbiamo il permesso. No, non ci credo, non ci credo, non ci credo, no! No, no, no! No, Mal, tu non puoi! No, Mal, tu non puoi! Mal, Mal, tu non puoi passare d'età! No, ragazzi, Mal non può passare d'età! Se Mal oggi passa d'età, ma io avevo bloccato tutto! Ragazzi, aiuto! Aiuto! Fatemi vedere! Ora baggo tutto, sicuro! No, no, no! No! Non puoi! Non puoi! Non puoi! Ragazzi, vi giuro, se è così io devo uscire senza salvare! Se è così io devo uscire senza salvare! Non ci sto credendo! No, Mal, tu non puoi passare d'età! Mal, ti prego! No! Pulci ovunque! No! Stracci! Stracci! A causa della sua indifferenza allo studio! Ma che siamo pazzi? No, ragazzi! Oh mio Dio, stiamo vedendo Mal come sarà nel futuro! Oddio, Mal, sei stupendo! E' fresco! No, ragazzi! Ma io, io, scusatemi, scusatemi un attimo, ma io potrei comunque, passate da pure lei? Oddio, anche, anche stracci di passate da! Aiutatemi! Non sto capendo più niente! Stracci di passate da! no, vabbè! Stracci adolescente! Ma, questo vuol dire che io posso ancora! La pozione metamorfio! Scusatemi, vabbè, io ovviamente non posso parlare con lei! scusatemi, ma allora questo vuol dire che io posso anche... Oh, mio Dio! Buono! Chi si è la sua giornata? Non sto capendo più niente, ragazzi! Ero convinta di avere solo questo come... Che sta succedendo? Madonna mia, che paura! la mascotte manca il tempo di arrivare la notifica che passa d'età già arriva! Non voglio venire all'università! Ragazzi, aiutatemi! Cioè, adesso ho un attimo una confusione totale! Questo vorrebbe dire, in teoria, che io non ho la fretta per far passare, per far diventare umana a stracci! Perché abbiamo ancora tempo! Giusto? Mamma malo, quanto sei carino! Ragazzi, dobbiamo vederlo urgentemente nel casse, sappiatelo! Allora, in tutto ciò, scusatemi, perché ho lasciato la sorella qui in balia di una, ovviamente, mixologa anziana e questa dovrebbe essere anche l'osteria più alla moda della città oserei dire anche che è l'unica osteria della città. Scusatemi, questo è il privé? Cioè, reparto maschi? Vieni qui, vieni qui, tipo, conversa con il mixologo, discuti della filosofia. Ma ragazzi, ma c'è qualcuno? Cioè, tipo, un giovane, un ragazzo, c'è? Crea un dipinto grande e consegnalo a Chacobble. Va bene, va bene, denaro va benissimo. Scusatemi, ma io posso, no, non posso arraffare se lui sta qui. Chi deve entrare? No, io vorrei tipo chiamarlo da me questo, perché mi vorrei fregare questa macchina. perché ragazzi, ricordiamoci che lei ha come obiettivo possedere e quasi essere legittimi proprietari, quindi io devo avanzare con la sua aspirazione. Io sinceramente speravo di conoscere qualche fustaccio in questa osteria. Invece, l'unica persona che incontro è questo tizio, Werner de Marco. Cioè, io non posso stare con lui, capito? Guardatemi, sono una modella sfegatata proprio. parole in libertà, devo dire. Allora, scusatemi un attimo, lei va in bagno, va benissimo. C'è una serata che doveva essere quantomeno alla ricerca di qualche fustaccio. Si sta rivelando ovviamente inutile perché nessuno viene a questa serata. In più mi era uscita anche la notifica che era un locale alla moda, ma la moda di che... Josué! Ah no, Harry Bird. Scusatemi, Harry Bird ha i capelli di Josué, potrebbe essere anche Josué. però è un paparazzo, ragazzi, vi giuro. Io non risoporto più i paparazzi, vediamo. Cosa succede? Ho intassato pure il water, vabbè. Story of my life, diciamo. Allora, perfetto, tra l'altro c'è anche una musica classica qua, ma ci rendiamo conto? Allora, io esigo una chance, voglio andare un attimo in giro a vedere se trovo qualcun altro, magari al parco. Non ci posso credere, ragazzi, vacanza gratissima, questa volta per Nina. Nina Cook e tutti gli adulti hanno appena vinto una vacanza gratis di due giorni grazie a un concorso a premi. Forza, rilassati lontano dagli adolescenti dell'unità familiare e non preoccuparti di nulla. Ragazzi, l'adolescente adesso quindi è mal. Posso pensare di non uscire senza salvare a questo punto, visto che mi sto anche guadagnando una fantastica vacanza gratis. e questa volta Nina andrà in vacanza con i genitori. Io non ci sto credendo, comunque l'avevo fatta venire al parco, perché tra l'altro al parco, ragazzi, festival, ci sono attività che possiamo fare anche quando sono chiusi, tipo anche la gara di divoramento. Se ci sono persone, posso farla anche da sola. Mangiatela la granita, nooo, l'ho pure lasciata lì, vabbè. Prendite una vacanza gratis. Ragazzi, ma io non ce la posso fare a vederla che cammina sempre in questo modo assurdo e a questo punto anche loro, anche i genitori, anche Olivier e Josie andranno in vacanza gratis. Avevo tante cose da fare, ma vabbè. Queste opportunità mi fanno imparare che niente è, diciamo, irrimandabile, come si dice. Comunque, sono contentissima del fatto che adesso posso investire il mio tempo con un po' più di calma per Mal, grazie al maggiordomo che sta facendo cose, ma scusatemi, quale, cioè, situazione migliore di queste? Miei genitori se ne vanno, ho un maggiordomo alle mie dirette dipendenze, perché, appunto, ci sono solo io in casa. Io sono felice, se posso dire la mia. Cosa potrei chiederle di fare? Dopo vediamo. Allora, faccio migliorare un attimino a lui un'altra volta l'abilità e vediamo nel frattempo se se ne vanno anche tutti loro. Eccoli qui, ragazzi. Allora, Olivier e Josie sono già qui, credo che stiano aspettando, vediamo, si arriva anche Nina. Nina, te ne vai da qualche parte? Allora, ragazzi, mi è anche morto un geco e il maggiordomo è venuto a pulire qui, ma adesso vado da lei e le chiedo di cucinare. Tra l'altro, attenzione, qui ho messo una farfalla che finalmente Josie è riuscita a trovare, ma tra le cose che Mal vuole fare, vuole organizzare una festa di adolescenti. Quindi, ragazzi, sicuramente lo faremo nel prossimo episodio, episodio nel quale anche vi farò vedere il look modificato di Mal. Ora, ve lo faccio vedere tra l'altro un po' da vicino, certo così sembra orrido. Io vi giuro, continuo a non capire a chi assomigliano i miei figli, probabilmente Josie si scoprirà che ha avuto una scappatella con qualcuno. Ne approfittiamo per riempire un pochettino la ciotola. No, ma va a prepararla lei. Riempi le ciotole di tutti quanti perché sei rimasto da solo e se quando tornano lo trovano tutti morti. Io sinceramente mi arrabbio, te lo dico, te lo voglio proprio dire. Allora, fai una cosa, ripulisci per me. Ragazzi, rendiamoci conto che questa è anche una cosa che dobbiamo sfruttare fino a quando stracci è un pupazzo perché quando diventerà umana non è che gli posso andare a dire pulisci per me, fai questo, procurami uno spuntino. Quindi, mi sa che è il caso di prendere la palla al bazzo e chiedere questa cosa. Tra l'altro, cosa potrebbe pulire? Stracci. Pulisci. Grazie. Ragazzi, vi giuro, io ho tantissime aspettative nei confronti di Stracci. Conto vivamente che loro si fidanzino eccetera eccetera. Comunque, allora, lui deve andare a dormire e visto che la sorella, brava Stracci, visto che la sorella non c'è, io direi che si prende anche la libertà che vuole e se ne va a dormire nel posto divina. Ah, è anche il giorno del diletto. Qualcosa mi dice, ragazzi, che a questo punto andiamo ad organizzare una bella festa in piscina però in realtà ho sbagliato a fare questa cosa perché non sarà una festa in piscina sarà una festa per gli adolescenti però in piscina. Quindi, nel prossimo episodio ci dedicheremo a questo non vedo l'ora e divertimento estivo quindi ne approfittiamo anche della mancanza di tutti gli adulti e il nostro mal si sta godendo anche la depannanza. Quindi, ci vediamo ragazzi nel prossimo episodio spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, scusatemi, io vorrei ritornare un attimo al mio shock perché ricordiamoci che Bolt ha mangiato il seme della lunga vita quindi a questo punto io direi che soprattutto visto e considerato che male è passato l'età e fino all'ultimo volevo bloccare tutto in questo caso direi che la parola di oggi oh mio Dio sta dormendo straccia che paura la parola di oggi è gioventù immagino anche bruciata ma comunque gioventù è la parola di oggi quella che vorrei far diciamo continuare a mal per ancora mesi e mesi invece prima o poi anche lui dovrà crescere e quella che ha ottenuto Bolt perché cioè io sinceramente non posso ancora credere che abbia mangiato un seme che forse se l'avessi usato io avrebbe avuto più senso va bene ma lo scopriremo nelle prossime puntate anzi se avete idea di che cosa nello specifico lui ha mangiato fatemelo sapere e quindi ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti per aver visto questo seguitemi raccomando ragazzi gli aggiornamenti su Instagram Facebook e anche qui su YouTube perché giovedì nel momento in cui vi parlo dopo domani uscirà il primo episodio della Ultimate Decades Challenge alle ore 17 quindi avremo video martedì giovedì e sabato martedì e sabato The Sims 3 e giovedì la Ultimate Decades un episodio a settimana giovedì alle ore 17 e ci vediamo al prossimo e ciao